...roberto Barsi, presuntuoso, non si allinea neanche, resta lontano di galoppo, parte molto piano Pasqua del Pino, sbaglia Perseo Ob Brown, lungo la corda è veloce Pancake Jolly, a largo e rapido per Vivi, più all'esterno anche Pegasots, poi Peri dei Greppi con a largo Plaschidats, per Vivi passa in vantaggio su Pancake che sbaglia. Numero 1, Pancake Jolly squalificato, numero 5, Perseo Ob Brown, squalificato, 15-2 lancio per Vivi, guida con un bel margine di vantaggio, su Pegasots Peri dei Greppi, 15-3 la seconda frazione, 30 e mezzo e quarto iniziale per Vivi, poi Pegasots a largo prova a risalire, Penny Lane in corda c'è Peri dei Greppi, davanti a Pietro da Pisa, seconda pariglia esterna per Plaschidats, chiude il gruppo Pasqua del Pino, in 600 in 47 e mezzo per Vivi che si è concesso una terza frazione in 16 e 8, manca un giro alla conclusione per Vivi, su Pegasots, Penny Lane a largo, poi Peri e Plaschidats, Pietro, Pasqua. Penultima curva, girono 1,2, adesso il primo chilometro per Vivi sul Pia del 1,18, in bocca da retta opposta alle tribune, Per Vivi in vantaggio, Penny Lane a largo in corda, Pegasots richiesto sul cambio di ritmo di Per Vivi. Poi ancora Peri e Plaschidats, 14 e 9 per la retta di là, per Vivi alla corda, Penny Lane che si riorganizza e ora incalza il leader che sembra stanco. Penny Lane a pariglia completamente per Vivi, sbucca dalla corda, Pegasots che dopo un attimo di unpass si è ripreso e ora prova l'aggancio a Penny Lane, poi di dentro Peri e Di Grippi, la retta di arrivo, Penny Lane che insiste e passa su per Vivi. C'è Pegasots che insegue, ma ormai Penny Lane partita chiusa per il secondo, sono in linea Pegasots e per Vivi. E per il quarto forse, forse, forse Pasqua del Pino in open stretch. Rivediamola, la retta di arrivo, intanto il tempo 1.16.7, 45.7 la chiusa con 15 per l'arrivo, Penny Lane che vince facile con Sandro Dori. E per il secondo ci vorrebbe un paio di frame prima, ma direi che forse, forse, forse Pegasots, ma è stretta. Poi attenzione, questo non è un fotofinish, è una telecamera e non è perfettamente in asse. Quarta Pasqua del Pino, Penny Lane e Sandro Dori per i colori della scuderia Gloma.